Martedì 7 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha ratificato l'accordo con Ancara per la realizzazione del progetto Turkish Stream. Il progetto prevede la costruzione di due rami che passando per il fondale del Mar Nero porteranno il gas russo rispettivamente in Turchia e nei paesi europei. Tuttavia il destino del ramo europeo del gasdotto dipenderà dalla posizione di Bruxelles. L'ultima azione dei lavori è prevista per il 2019. Se entrambi i rami verranno costruiti il gasdotto avrà una capacità di trasporto complessiva di 31,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il mercato turco da solo dovrebbe fruttare alla Russia 750 milioni di dollari l'anno. Stati Uniti e Turchia uniranno le forze per liberare dai terroristi le città siriane di Raqqa e di Elbab. Lo hanno deciso nel corso di una conversazione telefonica il leader turco e statunitense. Secondo i mass media di Ancara, Donald Trump avrebbe anche sottolineato la necessità di combattere il PKK e l'unità kurda di protezione popolare. Eppure le truppe kurde stanno già avanzando su Raqqa assistite dall'aviazione e dalle forze speciali americane. Dopo aver liberato molti centri abitati lungo il cammino, oggi i kurdi si trovano a una trentina di chilometri dalla capitale di Daesh. Da parte sua, Damasco si è detta aperta al dialogo con i kurdi sul futuro assetto politico del paese. L'esercito della Repubblica Popolare di Danieck ha perso uno dei suoi comandanti più amati. Michael Talstich, detto Givi, è stato ucciso mercoledì 8 febbraio alle 6 di mattina nel suo ufficio a Makievka da un lanciafiamme Shmel. Il Ministero della Difesa di Danieck ha definito l'attacco una continuazione della guerra terroristica intrapresa da Kiev contro gli abitanti del Donbass. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, dietro all'omicidio di Givi ci sarebbero le forze speciali dell'esercito ucraino. Per il Cremlino si tratterebbe di un tentativo di destabilizzazione della situazione in Donbass. Processo a porte chiuse presso l'Alta Corte di Giustizia per il governo britannico, accusato di non aver sospeso la vendita di armi ai sauditi e di non aver fermato l'uso delle bombe a grappolo, nonostante la violazione delle leggi umanitarie internazionali e i 10.000 civili iemeniti uccisi. L'accusa parte dall'organizzazione non governativa Campaign Against Arms Trade, che si avvale di prove fornite anche dalle Nazioni Unite. La Gran Bretagna ha fornito da 2015 cacciabombardieri, equipaggiamenti e tecnologie militari. Un affare di più di 3 miliardi di sterline. Il processo, lungo tre giorni, cade proprio mentre Theresa May cerca di incrementare la vendita di armi con la Turchia e i paesi del Golfo in un'ottica post-Brexit. Il governo si arrampica sugli specchi. Avrebbe rilasciato regolari licenze inconsapevole di crimini di guerra da parte dei sauditi. Ordinaria amministrazione, insomma. Ma secondo l'accusa, qualsiasi leader politico ragionevole avrebbe sospeso la vendita di armi. La Cina dona 16 milioni di dollari in aiuti umanitari alla Siria. L'ambasciatore cinese a Damasco, Qi Qianjin, ha sottolineato l'obiettivo di rinforzare l'amicizia tra i popoli cinese e siriano in addempimento alle responsabilità e agli obblighi internazionali. Il presidente cinese Xi Jinping, nel suo recente discorso alle Nazioni Unite, aveva già annunciato lo stanziamento di 29 milioni di dollari per l'assistenza umanitaria ai rifugiati siriani. Quando i nostri vicini hanno problemi, dovremmo offrire una mano piuttosto che restringere le nostre restrizioni, aveva dichiarato il presidente cinese. Con 90 voti contro 34, il Parlamento scozzese ha votato una mozione promossa dallo Scottish National Party che rigette il ricorso dell'articolo 50 da parte del governo britannico, primo step per Brexit. Tuttavia la mozione, votata dalla maggioranza dei Labour, SNP e Lib Dem, è puramente simbolica. La Corte Suprema ha stabilito che la Scozia non ha alcun potere legale per una mozione formale, come avrebbe voluto la Premier Nicola Sturgeon. Un puro messaggio del Parlamento scozzese alla Gran Bretagna e all'Europa, quindi. Ma rimangono molte incertezze. Pur considerandolo il voto più significativo degli ultimi 18 anni di vita del Parlamento scozzese, la Sturgeon è stata assente per tutto il tempo del dibattito e resta prudentemente incerta sulla promozione di un secondo referendum per l'indipendenza della Scozia, attesi nuovi sviluppi nel mese prossimo, quando il governo britannico evocherà l'articolo 50. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.